Medici ed infermieri in agitazione al Cardarelli di Napoli, problemi atavici non ancora risolti che stanno via via degenerando, tanto da portare i camici bianchi ad organizzare una manifestazione di protesta contro il direttore generale Antonio D'Amore. Mancanza di personale, pazienti in overbooking e cioè più di quanti il pronto soccorso possa ricevere per numeri di posti letto disponibili. Concorsi deserti, promesse non mantenute. I sindacati si sono dati appuntamento davanti le parte antistante la sede amministrativa dell'ospedale Cardarelli, sigle compatte CGL, CISL, ANAO, FISMED per recitare le più conosciute. L'accusa al DG del Cardarelli è quella di non aver dato seguito alle promesse fatte all'atto del suo insediamento di circa otto mesi fa, anzi portando avanti iniziative addirittura penalizzanti come la riduzione del personale infermieristico nei turni di servizio. Sul tavolo della protesta due comunicati diversi. Il primo sottolinea la mancanza di partecipazione al tavolo richiesto dalle sigle sindacali del direttore generale e amministrativo con il direttore sanitario che ha rifiutato il confronto per motivi di ordine pubblico. Criticità di pronto soccorso e dobi non ancora risolti. Mancanza di stabilizzazione del personale così come promesso, urgenza di concorsi nell'area medica e chirurgica sulla base della disponibilità dei fondi. La gravissima criticità dell'organizzazione lavorativa è il perdurare dei turni con orari massacranti senza avere nemmeno una remunerazione adeguata.